La carta Venezia Unica è una tessera elettronica personale valida 5 anni dalla sua emissione e rinnovabile alla scadenza. La carta per il servizio di trasporto pubblico può dare agli utenti diversi vantaggi come saltare la coda per salire a bordo del vaporetto, avere tariffe più vantaggiose per l'acquisto di biglietti e abbonamenti, ottenere sconti presso esercizi convenzionati come musei e altri eventi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS